Giulia Bacchetta Audiolibri presenta L'arte di ascoltare e di tacere Plutarco Nicandro mio, ti faccio avere questo trattatello sull'arte di ascoltare che ho finito di scrivere di modo che tu veda qual è la maniera giusta di stare a sentire chi intende persuaderti. Adesso che sei cresciuto e da chi hai indossato la toga virile non devi più ubbidire agli ordini. Certi giovani, cui è mancata una solida educazione, identificano la libertà con una forma di anarchia, senza rendersi conto che essa li assoggetta a una dittatura delle passioni, in un certo senso scarcerate, ben peggiore di quella degli istitutori e maestri da ragazzi. Sicché, come dice Rodoto delle donne, che assieme al vestito si spogliarono del pudore, così fanno certi giovani, che assieme alla toga puerile depongono anche il senso del ritegno e del rispetto, e liberandosi dell'abito che stava loro stretto, si gonfiano subito di insolenza. Tu, che avrai sentito spesso ripetere che seguire il Dio e ubbidire alla ragione è lo stesso, devi capire che la formazione dei ragazzi in uomini adulti, perché a giudizio, non significa la scomparsa dell'autorità, ma semmai un passaggio di consegne, da una guida di vita stipendiata o acquistata a quella divina nell'esistenza, la ragione. Solo chi la segue è degno di essere considerato veramente libero, questo infatti è l'unico ad avere aspirazioni legittime e può perciò vivere come desidera. Dietro agli atti contro ragione e ai colpi di testa infantili, invece, sta una volontà vile e meschina, soggetta a continui ripensamenti. Succede come tra i cittadini dove ci sono gli stranieri immigrati che brontolano insoddisfatti di molte delle cose per come sono, mentre gli altri, cresciuti in famiglie di meteci e adusi alle leggi vigenti, accettano in tutta tranquillità le imposizioni che anzi amano. Così per te, nutritoti a lungo di filosofia e abituato fin dal principio a ricevere qualsiasi nozione e racconto d'infanzia, con misto di ragionamento filosofico, la filosofia deve essere di casa, un approdo naturale. Essa è la sola a conferire ai giovani una tenuta adulta e perfetta per davvero, scaturita dalla ragione. Credo allora che ti farà piacere avere un assaggio sul senso dell'udito. Teofrasto lo ritiene il più ricettivo di tutti. Nella vista, nel gusto, nel tatto, provocano uno stato di eccitamento, subbuglio e terrore tanto forte quanto quello di cui l'anima è preda quando dei rumori, dei colpi o dei suoni giungono al nostro orecchio. Esso però è ancora più razionale che il ricettivo, se per quanto riguarda il vizio molte zone e parti del corpo permettono di entrare in contatto con l'anima passando attraverso di esse. Per la virtù, unica possibilità sono le orecchie dei giovani, quando esse siano pure incorrotte dall'adulazione e siano state preservate sin dal primo momento, vergini dalle sciocchezze. Perciò, anche Senocrate sortava a mettere i para-orecchia ai ragazzi, prima ancora che agli atleti. Certo, diceva, le orecchie degli atleti devono ripararsi dai colpi, ma quelle dei ragazzi dalle parole che sovvertono i costumi. Senza esortarli all'ignoranza e alla sordità, raccomandava loro cautela quei discorsi frivoli, finché gli altri discorsi, quelli utili, come guardie imbevute di filosofia, a presidio del loro carattere, non ne avessero fortificato la parte più influenzabile e cedevole. Anche Biante, nei tempi che furono all'ordine Diamasi, di mandargli in una il pezzo di carne di qualità migliore e quello di qualità peggiore della vittima per il sacrificio, strappandone la lingua, gli rimandò quella, poiché sapeva che tanto i benefici quanto gli svantaggi della parola sono enormi. Molti, non a caso, baciano i bambini piccoli tenendoli per le orecchie e li vogliono vedere fare lo stesso. Un gioco che però in fondo ci suggerisce di amare più di chiunque altro, chi sa fare tesoro dell'udito. È chiaro del resto. Se il giovane sta alla larga da ogni occasione di ascolto e non ne assapora nessuna di conversazione, non solo non dà frutto alcuno nel suo progresso alla virtù e nemmeno sboccia, ma prende addirittura la cattiva strada. Dalla sua anima, come da un terreno non dissodato e incolto, egli produce solo molte sterpaglie selvatiche. Se infatti lasciassimo che la tensione al piacere e la ripulsa alla fatica, fonti non allogene né introdotte da parole esterne, ma, se così si può dire, autoctone di innumerevoli passioni e affezioni, andassero a briglia sciolta nella direzione in cui si sviluppano per natura, senza estirparle con validi argomenti, senza correggere la natura e irregimentarla, l'uomo non apparirebbe più civile di tanti altri animali. Ebbene, dato che l'ascolto per i giovani, oltre a un notevole profitto, comporta un rischio non inferiore, penso sia buona norma parlarne sovente, con se stessi non meno che col prossimo. Quanti ne vediamo sbagliare anche su questo punto, esercitandosi a parlare prima di aver acquisito l'abitudine all'ascolto? Credono che solo le parole meritino studio e conoscenza, mentre ascoltare, anche a farlo come capita, tornerà utile lo stesso. Sarà vero, per chi gioca a palla, che il lancio e la presa si imparano al contempo, ma quando si tratta di parole, prima di essere messe, esse vanno recepite correttamente. Proprio come prima del parto ci devono essere il concepimento e la gestazione di un seme riproduttivo. Si suole dire che nelle galline la deposizione di uova non fecondate sia causata da certe impurità inorganiche. Analogamente ai giovani che non sono capaci di ascoltare né sono avvezzi a trarne profitto, la parola esce anch'essa infeconda per davvero, come quelle uova, e si dissolve in gloriosa ignota sotto le nubi del cielo. Inclinano i recipienti, li orientano di modo che ricevano il liquido da travasare e versano per bene, senza sversare, ma all'ascolto le persone non sanno disporsi né sono capaci di porgere la dovuta attenzione a chi parla per non lasciarsi sfuggire nemmeno una parola del suo prezioso discorso. C'è un fatto più ridicolo di tutti gli altri, però. Il primo che incontrano, intento a raccontare all'amico di una cena o di una processione che c'è stata, di un sogno o di una lite che ha avuto, si mettono a sentirlo in religioso silenzio e gli si appiccicano. Quando poi, metti caso, tu li vuoi avvicinare per insegnare loro qualcosa di buono, per esortarli al proprio dovere, per rimproverarli dei loro errori o placarne la collera, non lo tollerano. Anzi, se ne sono in grado, ingaggiano una polemica accanita contro le tue parole nell'ambizione di prevalere, altrimenti se la svegnano verso altre parole, verso sciocche e ciarle, con cui si otturano i timpani di ogni sorta, di cose meno che le necessarie, come si fa coi vasi sbeccati di seconda scelta. Così, come allevare bene i propri cavalli li rende docili al morso, insegnare ai ragazzi ad ascoltare molto e parlare poco, li rende inclini a dar retta alle parole. Spintaro, a tal proposito, per elogiare Epaminonda, disse che una persona di così tanto senno e così poche parole si incontrava una sola volta. Dicono del resto che la natura ci abbia fornito un paio di orecchie, ma una lingua soltanto, per costringerci ad ascoltare di più e parlare di meno. Il silenzio è dunque una norma di contegno infallibile per il giovane. Lo è in particolare ogni qual volta gli si metta in ascolto dell'interlocutore. Eviti di agitarsi e sbraitare contro ogni sua parola, anche quando il discorso non gli va troppo a genio. Sappia contenersi e aspettare che l'interlocutore abbia terminato, e una volta che costui avrà finito, eviti di investirlo seduta stante con la replica. Ma, come dice Schine, lasci intercorrere del tempo, nel caso in cui chi ha appena parlato desideri aggiungere, cambiare o levare qualcosa. Chi reagisce immediatamente con una controffensiva, senza ascoltare e senza essere ascoltato, ma parlando addosso a chi sta parlando, dà prova di una condotta indecente. Diverso il caso di chi è abituato a mettersi composto e disciplinato a sentire. Costui sa recepire e fare propria la parte buona, e al contempo discernere e snidare quella nociva e mendace di un discorso. Così egli darà di sé l'immagine di una controparte obiettiva, non di una persona polemica faziosa e attaccabrighe. Ci ha visto bene, pertanto, chi sostiene che l'arroganza e la presunzione nei giovani vadano sgonfiate più che l'area di una otre se li vuoi riempire con qualcosa di utile, altrimenti restano palloni gonfi di boria e di arie, in cui non può introdurre più nulla. Non è mai un bene che l'invidia col suo seguito di malignità e inimicizia sia presente in un'azione, anzi, essa è nemica di ogni bene. Ma quando siede accanto all'uditore, e ne è la peggiore sobillatrice, essa rende molesto, sgradevole e malaccetto ciò che egli ode di buono, perché gli invidiosi, più che dalle parole giuste, sono appagati dalle parole basta. Non c'è dubbio, quando uno è corroso dai soldi, dalla gloria o dalla bellezza degli altri, è soltanto invidioso. La felicità altrui, cioè, lo tormenta. Ma quando invece non sopporta una parola, perché ben detta, è la consistenza del proprio bagaglio culturale ad angustiarlo. La parola, infatti, è una risorsa per chi ascolta, come lo è la luce per chi vede, a patto che ci sia il desiderio di recepirla. Questo perché, mentre l'invidia nei confronti dei beni altrui è suscitata da una certa propensione alla grossolanità e al male, l'invidia per gli interlocutori nasce dal bisogno inopportuno di stare al centro dell'attenzione, da una ricerca abiasimevole di rivalità. Pertanto, a chi la prova, essa non permette di porgere davvero attenzione alle parole. Mentre vengono pronunciate, essa anzi ne turba la capacità di giudizio, che spinge all'esame delle proprie facoltà, per assicurarsi che non siano inferiori rispetto a quelle dell'interlocutore. Al contempo, questo tipo di sentimento cerca di leggere negli altri i segni del compiacimento e dell'ammirazione. È urtato dalle espressioni di consenso e si infuria verso i presenti se ne accordano all'oratore. È un'invidia che si lascia alle spalle le parole già dette, perché ricordarle fa male, ma già freme di rabbia per quelle a venire, sperando le peggiori delle precedenti, che quando l'altro parla e dà il meglio di sé, non vede l'ora che finisca, non per riflettere su qualcosa di quanto si è detto, ad ascolto concluso, ma solo per scrutinare pareri e reazioni dei presenti. Allora l'invidioso piglia subito le distanze da chi è d'accordo, nemmeno fosse matto, e cerca silo tra i pecoroni che belano la propria disapprovazione e mistificano ciò che hanno udito. Se non c'è nulla da mistificare, l'invidioso subito mette a paragone il discorso presente con altri migliori e più convincenti sullo stesso argomento, tanto ha demolito e infangato alla fine che l'ascolto risulta impraticabile e infruttuoso a lui per primo. È bene perciò far venire a patti la propria voglia di ascoltare con quella di emergere, e così prestare orecchio a chi parla in tutta benevolenza e serenità, come se si presenziasse a un banchetto sacro o a una cerimonia sacrificale. Vanno apprezzati i punti di forza e, se non altro, va ammirata la buona volontà, di cui da prova chi ci schiude la propria conoscenza e intende persuaderci del proprio convincimento. Pensiamo a chi ha successo, non è cosa che viene da sé o per caso, bensì richiede cura, fatica, studio. Costoro vanno imitati. Oltre che con stupore, dobbiamo guardarli con spirito di emulazione. Rivolgiamo l'attenzione a chi fallisce, invece. Quali le cause dell'errore? Da dove proviene? Secondo Senofonte, gli amministratori accorti sanno trarre vantaggio dai nemici, non meno che dagli amici. Analogamente, tanto il successo quanto il fallimento di un discorso può tornare utile a chi mantiene vigile l'attenzione. Pochezza mentale, vuotezza retorica, una condotta volgare e l'eccitazione accompagnata da gioia sguaiata, a mo' di lode e quanto altro. Tutte cose che ci sono evidenti più per gli altri mentre li ascoltiamo che per noi stessi mentre parliamo. È necessario allora ricondurre a noi stessi l'appunto che facciamo a chi parla, verificando che non ci sia successo di commettere errori simili senza accorgercene. Sebbene criticare il prossimo sia la cosa di gran lunga più facile, ciò finisce per essere privo di qualsiasi utilità, a meno che, di rimando, non conduca a correggerci e a salvaguardarci da errori simili. Sul conto di chi sbaglia, non esitiamo a ripetere sempre a noi stessi con Platone, sono anch'io così, per caso. Già che, come nelle pupille di chi ci sta davanti, intravediamo baluginare i nostri occhi, nelle parole altrui vanno rilette le nostre, di modo non solo che il nostro disprezzo per gli altri non sia troppo precipitoso, ma anche l'attenzione alle nostre parole sia più accurata. A questo scopo anche il raffronto sa rivelarsi espediente e utile, quando, dopo aver ascoltato un discorso, ne prendiamo in considerazione per conto nostro uno stralcio che ci è parso essere poco efficace o adeguato, e ci mettiamo mano, spingendoci qui a completarne, per così dire, dei punti, là a rettificarne degli altri, qui a esprimerli in maniera differente e là a ricominciare radicalmente da capo, cimentandoci con l'argomento in questione. Si tratta di un metodo che usò anche Platone, con i discorsi di Lisia. Replicare a un discorso che è già stato pronunciato non è affatto complicato, anzi, è facile. Di gran lunga più impegnativo, semmai, è che la replica sia di livello più alto, come quello spartano che, saputo della distruzione di Olinto a opera di Filippo, ebbe a dire, e sia, ma una città come quella costui non potrà mai più farla risorgere. Tutte le volte, cioè, che parliamo sullo stesso tema, ma non abbiamo l'aria di farlo meglio di chi ci ha preceduti, la voglia di criticare in noi scemerà molto, ed un tratto la nostra presunzione e il nostro egocentrismo, screditati in questo tipo di confronti, cesseranno. Orbene, alla tendenza a criticare si oppone quella all'ammirazione, senza dubbio tipica di un'indole più mite e conciliante. Essa, tuttavia, oltre che con un poca cautela, richiede forse qualcosa di ancora più importante. Se, infatti, i criticoni e gli sfacciati traggono meno beneficio dai loro interlocutori, le anime candide, quelli con lo stupore negli occhi, ne pagano maggiormente le conseguenze. Prova provata del detto di Eraclito. È uno stolto l'uomo che resta a bocca aperta di fronte a tutto ciò che sente. È bene, allora, esprimere assenso con schiettezza nei confronti di chi parla, ma ci vuole precauzione nel concedere fiducia alle sue parole, e così pure bisogna essere arbitri, magnanimi e imparziali dell'eloquo e della pronuncia dei concorrenti, ma revisori puntigliosi e spietati dell'utilità e della veridicità di quanto affermato. Solo così non se ne avranno a male gli oratori, senza per questo che le loro parole facciano male a loro volta. Quante bugie, quante storture del resto facciamo nostre senza nemmeno saperlo, per ingenuità e fiducia nei confronti di chi parla. A Sparta le autorità, per pronunciarsi sulla proposta di un individuo dalla cattiva reputazione, la misero in bocca a un altro, che per costumi e condotta era un galantuomo riconosciuto. Un'ottima lezione politica su come educare il popolo a prendere posizione, sotto la spinta dei fatti, e non delle parole, dei membri dell'assemblea. Quando tuttavia la discussione pertiene alla filosofia, la nostra valutazione deve prescindere dal prestigio dell'oratore e concentrarsi sul contenuto in sé. Durante l'ascolto, le distrazioni non sono meno che sul campo di guerra del resto. La canizie dell'oratore, il suo tono di voce, il suo cipiglio, o la sua attitudine all'autocelebrazione, ma più di tutto le urla, il fermento, gli scatti del pubblico, travolgono e trascinano come un vortice l'ascoltatore inesperto e alle prime armi. Anche nell'eloquio si annidano inganni tutte quelle volte che lo si applichi ai fatti in maniera abbondante e carezzevole, non scevro di una certa alterigia e affettazione. Molte stonature delle cantanti sfuggono all'uditorio coperte dall'accompagnamento del flauto, così come un eloquio pomposo e sovrabbondante getta fumo negli occhi del pubblico. A tal proposito, quando chiesero un parere a Melanzio sulla tragedia di Diogene, egli disse, a quanto pare, di non essere riuscito nemmeno a scorgerla sotto a quella montagna di parole. Non per nulla, molti sofisti nelle loro dispute e declamazioni non fanno ricorso soltanto a parole dal significato concettoso, ma mandano invisibilio l'uditorio e lo circuiscono insuccherando l'esposizione con ogni sorta di musicalità, leggiadria e risonanza, un piacere vano in cambio di una gloria che lo è ancor di più. A costoro succede quel che disse Dionigi. Raccontano per l'appunto che durante lo spettacolo costui avesse promesso a un citaredo di grido di coprirlo di doni, per poi non dargli nulla. Aveva già elargito la gratifica, a suo modo di vedere, quei momenti, soggiungeva, che tu mi hai allietato col tuo canto e io te li ho allietati con le mie promesse. Si tratta della stessa moneta con cui questo tipo di ascoltatori ripaga i propri oratori. Tanta ammirazione finché ne solletichi le orecchie, poi il piacere evapora assieme al suono delle loro parole e anche la gloria li lascia soli. Hanno sciupato solo del tempo in vano i primi, mentre costoro tutta la vita. Ecco perché privare l'eloquio di ogni futile orpello e prefiggersi piuttosto solo il frutto, a imitazioni delle api più che di fanciulle che intrecciano ghirlande. Queste, infatti, tutte tese all'incetta di ramoscelli fioriti e profumati, mettono insieme intrecciando un bel lavoro, sì, ma effimero e infruttuoso, mentre le altre, che vanno volando su e giù per prati di viole, rose e giacinti, scendono a posarsi sul timo, così puntuto e dentellato, industriandosi a produrre il biondo miele. Poi, ricavatone ciò che interessa, se ne tornano in volo al proprio compito. L'ascoltatore che apprezza l'arteschietta, parimenti, deve lasciar perdere le parole fiorite e lussureggianti, e così pure i fatti di gusto spettacolare e celebrativo, deve considerarli cibo per fuchi sofisticheggianti. Egli, piuttosto, deve concentrarsi e immergersi nel senso del discorso e nell'atteggiamento con cui è esposto dal parlante, così da ricavarne quel che c'è di buono e proficuo, senza mai dimenticare che non è andato a teatro o a un concerto, ma a lezione, a scuola, per correggere la propria vita grazie alle parole. Dopodiché, bisogna valutare e giudicare l'ascolto del discorso, a partire da se stessi e dalla propria disposizione, ponderare se il nostro turbamento ne è stato un po' lenito, o se un po' ne è stata alleviata la nostra angoscia, se la nostra forza di volontà e i nostri propositi ne sono usciti consolidati, se ne è derivato uno sprone al bene e alla virtù. Quando finiamo dal barbiere, è buona norma rimirarsi allo specchio e toccarsi la testa per controllare il taglio di capelli e il tipo di pettinatura. Anche quando finiamo di ascoltare un discorso o di assistere a una lezione, dobbiamo subito rivolgere lo sguardo a noi stessi, scrutare il nostro animo per vedere se, libero da preoccupazioni ed eccessi, non si sia alleggerito e addolcito. Come dice Aristone, non val la pena né di un bagno né di una parola che non siano purificatori. Si rallegri allora il giovane di trarre profitto dalle parole che sente, ma non faccia del diletto, il fine ultimo dell'ascolto, e al termine non pensi di uscire dalla lezione di un filosofo canticchiando raggiante. Non pretenda di coprirsi di profumo se ciò che gli occorre sono lozioni e cataplasmi. Piuttosto ringrazi quelli le cui parole penetranti hanno fatto pulizia, come fumo in un alveare, nella sua mente tutta ottenebrata e intorpidita. Se è vero, infatti, che a chi parla conviene non trascurare del tutto gradevolezza e persuasività del proprio eloquio, di questo aspetto al giovane non deve importare minimamente, quantomeno all'inizio. Magari in un secondo momento, come i bevitori che, placata la sete, si rigirano la coppa tra le mani, apprezzandone la decorazione, anche al novizio sarà concesso di analizzare se lo stile sia elegante o eccessivo, ma solo allorché, saturo di idee, abbia avuto il tempo di riprendere fiato. Dall'altra parte, sta chi di primo acchitto sa apprezzare dell'eloquio solo le finezze e gli atticismi, senza basarsi sul contenuto. Costui si comporta come uno che pretendesse di non ingerire un antidoto, a meno che l'ampolla non sia in argilla coliade dell'attica, o che d'inverno rifiutasse di avvolgersi in un mantello, la cui lana non provenga da pecore dell'attica, e se ne stesse l'ha seduto, immobile e impotente, con indosso, mi viene da dire, la mantellina striminzita e leggera leggera dello stile edilisia. Nelle scuole questo genere di manie ha già inaridito menti valide, buoni cervelli, in cui ha seminato tanta pedanteria e chiacchiere. Invece di badare alla vita, alle azioni e alle relazioni del filosofo, si sprecano in elogi per lo stile, le parole e la corretta maniera di esporre. Poco importa, poi, che l'esposizione sia utile o meno, che se ne sentisse l'esigenza o fosse del tutto superflua ed esagerata, perché questo non lo sanno e non vogliono saperlo. Appresso a questi, ecco qualche precetto su come porre le domande. È buona educazione per l'ospite a cena servirsi di ciò che è imbandito senza chiedere null'altro, senza avere da ridire. Chi si accoste al convito delle parole, se il tema è già fissato, ascolti in silenzio chi parla, giacché quelli che spostano la conversazione su altri argomenti e si intromettono con le loro domande e i loro dubbi, lungi dal risultare piacevoli o simpatici al nostro orecchio, oltre a non guadagnarci nulla in prima persona, confondono in un colpo solo l'oratore e l'orazione. Quando invece è l'oratore a chiedere al suo pubblico di farsi avanti e domandare, l'impressione deve sempre essere quella che lo facciate per qualcosa per cui vale la pena. Non per nulla Odisseo è deriso dai proci perché chiedeva un tozzo di pane, non una spada o un bracere. Ciò perché al loro modo di vedere, donare e richiedere qualcosa di grande era un segno della propria grandezza. Peggio ancora, potrebbe essere preso in giro chi interviene per spingere l'interlocutore su questioni minute e quisquilie, come certi giovincelli che, per fare capziosi e fare sfoggio della loro preparazione in dialettica o matematica, hanno l'abitudine di porre domande sulla divisione delle proposizioni indefinite, oppure sul movimento secondo il lato di un parallelogrammo o secondo la diagonale. A loro potremmo rispondere, con le parole di Filotimo, a quel tale maciato e pieno di piaghe. Quando questi gli si risvolse per chiedergli un rimediuccio per il giradito, Filotimo, che dalla cera e dal respiro si era accorto delle sue condizioni, gli rispose «Caro mio, qui la questione è ben altra che il giradito». Neanche per te è il momento, giovanotto, per questo genere di indagini. Chiediti semmai come liberarti della tua boria e della tua arroganza, degli spasimi d'amore e delle fanfaronate, imboccherai così la via di una vita sobria e sana. Ebbene, le domande vanno anche calibrate sulla preparazione o sulla predisposizione innata di chi parla, e bisogna porle negli ambiti in cui questo è ferratissimo, non mettere in imbarazzo chi si occupa più che altro di filosofia morale, adducendo problemi di fisica o matematica, né strappare un parere sugli enunciati interdipendenti o i sofismi ingannevoli a chi va fiero delle proprie competenze di fisica. È come se uno cercasse di fendere il legno con una chiave e di aprire la porta con un'accetta, più che di disporre in maniera inappropriata di questi oggetti, darebbe l'impressione di negarne a se stesso l'uso e l'effetto. Quelli che pretendono delle risposte dall'interlocutore su temi che per natura non gli appartengono e nemmeno conosce, fanno lo stesso, senza fare incetta e prendere ciò che questi ha e mette a disposizione. Non è solo per il danno a se stessi, incappano anche nel biasimo per il loro malanimo e la loro ostilità. Badate anche a non intervenire troppo e troppo spesso. Si tratta in qualche modo di un altro atteggiamento tipico di chi ostenta. Essere aperti all'ascolto dell'esposizione altrui è segno di educazione e di interesse per la materia, a meno che non ci disturbi e perseguiti un sentimento o una fisima interiore, che sono l'uno da sedare e l'altra da curare. Forse non è vero quel che dice Eraclito, meglio celare l'ignoranza, meglio forse per curarla renderla pubblica. Se un accesso di ira o di superstizione, se una violenta lite di famiglia o una folle smania d'amore, che del cuore sa toccare le corde mai pizzicate, ci sconvolge la mente, non bisogna cercare un diversivo in conversazioni di altro genere, per sottrarsi alle accuse. Bensì andare a sentire proprio i dibattiti filosofici, incentrati su questi temi, e a dibattito concluso avvicinare il conferenziere per chiedergli ulteriori informazioni a quattro occhi. Non fate come i più, cui piace stare a sentire a bocca aperta, i filosofi parlare di tutt'altro, ma quando poi il filosofo, licenziati gli altri, parla loro a tu per tu dei loro doveri e glieli rammenta, si stizziscono perché lo trovano fuori luogo. Costoro pensano che i filosofi a scuola sia buona norma per lo più seguirli, come gli attori della tragedia sul palco. Al di fuori della scuola sono convinti che siano persone del loro stesso livello. Dentro di sé, in effetti, è lecito pensarla in questi termini per i sofisti, individui che, scesi dalla cattedra e lasciati libri e le dispense, nelle faccende della vita di ogni giorno risultano meschini e alla portata della maggior parte della gente. Ciò non vale, invece, per i veri filosofi. In tal caso, pensarlo vuol dire ignorare che una loro parola detta seriamente, o per scherzo, un loro cenno, un loro sorriso o un loro corrucciamento, vi è più un discorso rivolto personalmente a noi, ci schiudono un frutto prezioso, se abbiamo saputo essere pazienti e prestare attenzione. Anche le manifestazioni di assenso richiedono una certa prudenza e una qualche misura. Poco urbano è, infatti, sia a lesinarle, sia a sperperarle. C'è dunque l'ascoltatore serioso e pesante. Questi è immune e insensibile a qualsiasi parola, gonfio di una boria radicata a fondo e di un egocentrismo congenito, sicuro di poter sempre dire qualcosa di meglio degli altri. Con volto impassibile e senza proferire verbo a riprova del suo indulgente interessamento, va a caccia di una reputazione di uomo solido e di spessore, muto muto, una maschera di austerità, ed è tirchio di lodi neanche fossero quattrini, convinto com'è di negare a sé quelle che largisce ad altri. Del resto sono in tanti a equivocare le parole di Pitagora, falsandone il senso. Egli disse appunto di aver appreso grazie alla filosofia a non trovare mai nulla mirabile, e costoro hanno inteso nulla di lodevole e apprezzabile, perché non sanno fare altro che criticare e, per darsi un tono di autorevolezza, essere costantemente altezzosi. Benché, infatti, grazie alla conoscenza e alla ricerca della causa di ogni fenomeno, la riflessione filosofica estirpi l'ammirazione e lo stupore frutto di inesperienza e di ignoranza, essa non cancella anche la cordialità, il senso della misura e la socievolezza. Per chi è persona veramente valida e sicura di esserlo, è la forma più bella di onore quella di rendere merito a qualcuno di degno, l'ornamento più bello decorarlo, e ciò avviene per una ricchezza di buona reputazione e una generosità nel tributarla. Chi è tirchio di lodi con gli altri, al contrario, sembra esserne parco e al contempo esserne povero per sé. C'è poi l'altro tipo di ascoltatore, contrario a quanto descritto finora, quello privo di qualsiasi senso critico, che si accende e urla a ogni parola, a ogni sillaba, un tipo scemo come una gallina. Spesso nemmeno a chi dibatte sta simpatico, ma è il pubblico piuttosto che ne è seccato, perché egli lo fomenta e lo esorta a reagire contro il proprio volere, quasi trascinato per pudore a fargli l'eco. Non cava nulla costui dal fatto che ha reso l'ascolto una gran confusione e un gran chiasso con quel suo acclamare, e se ne esce di scena bollato con uno di questi tre nomi, è passato o per un ipocrita o per un piaggiatore, o ancora per un villano che di conversazione non capisce nulla. Vero è che, in un processo, sì, bisogna ascoltare senza antipatie o favoritismi per giudicare, lo si deve fare secondo un'opinione orientata all'imparzialità, ma il pubblico di un dibattito colto non è vincolato da leggi o giuramenti di sorta, che proibiscano di accogliere con benevolenza l'oratore. Anzi, gli antichi dedicarono i santuari a Hermes, assieme alle grazie, a dire che la parola esigeva secondo loro soprattutto grazia e benevolenza. Non è possibile, infatti, che l'oratore sia tal segno abietto e fuoritema, da non offrire un'idea qualsiasi degna di lode, un riepilogo delle idee di altri, o il tema in sé e lo scopo del suo discorso, o perlomeno lo stile e la struttura della sua esposizione, come tra le ginestre e tra le spine degli ononidi possono i fiori delicati dei bucaneve sbocciare. In un mondo in cui c'è gente che sfoggia panegirici sul vomito, sulla febbre, pure sulla pignatta, per Dio, senza perdere di credibilità, può mai darsi che un discorso composto da una persona che, per un motivo o per l'altro, ha la reputazione o un nome di filosofo, non offra mai al proprio pubblico cortese e affabile, nemmeno in un caso, un po' di tregua e l'occasione di un complimento. Tutti i ragazzi nel fiore della giovinezza, come ricorda Platone, accendono in un modo o nell'altro il desiderio sessuale. Chiamano figli degli dèi quelli che hanno la carnagione chiara, virili quelli che ce l'hanno oscura, chi ha il naso aquilino ce la nobile, chi camuso affascinante, chi è iterico biondo come il miele. Un vezzeggiativo dopo l'altro li baciano e li amano, perché l'amore è capace di aggrapparsi tenace, come l'edera a qualsiasi pretesto. Tanto più allora il fine ascoltatore e l'amante della cultura dovrà sempre essere in grado di trovare una buona ragione, per cui sia palese che a ciascuno distribuisce elogi mirati. A questo proposito Platone, per esempio, pur non lodando le orazioni di Lisia per l'invenzione, e anzi rimproverando nel disordine degli argomenti, ne apprezza non di meno lo stile, il fatto che ogni parola fosse stata tornita e levigata nel dettaglio. C'è anche chi rimbrotta archiloco per i temi che tratta, Parmenide per la qualità dei suoi versi, Focilide per la banalità, Euripide per la verbosità e Sofocle per le licenze poetiche. Esattamente allo stesso modo c'è un oratore che non ha carattere e un altro che è incapace di esprimere le passioni, e poi un altro ancora privo di grazia. Non di meno, ciascuno di loro deve essere lodato per il proprio punto forte, col quale ha il dono di fare presa e attrarre il pubblico. Anche gli ascoltatori, allora, devono essere magnanimi e non lesinare complimenti a chi parla. Ad alcuni non serve che li esprimiamo a parole, basta omaggiarli di uno sguardo buono, di un'espressione distesa e di un aspetto non prostrato, ma confortante. Passiamo ora a vedere quali sono le norme generali e comuni, per dir così, che qualsiasi uditorio dovrebbe seguire, anche di fronte a relatori del tutto fallimentari, schiena dritta e postura composta, occhi rivolti a chi parla e atteggiamento vivamente interessato, viso che abbia un'espressione chiara, da cui non traspaiano soltanto supponenza o fastidio, ma anche pensieri e occupazioni di altra natura. È come in ogni opera d'arte, dove il bello è il risultato di una convergenza quasi matematica di svariati fattori, dettata da proporzioni e armonia, mentre il brutto scaturisce di colpo dalla mancanza di uno qualsiasi di essi, ovvero da una loro eccedenza incongruente. Parimenti, quando ascoltiamo, non risultano riprovevoli soltanto una fronte aggrottata, un volto contrariato e uno sguardo perso, o starsene tutti storti a gambe incrociate, ma sono disdicevoli ed esigono discrezione anche ammiccamenti o bisbigli col vicino, sorrisi complici, sbadigli assonnati, occhi bassi e gesti simili. Ci sono altri poi, convinti che, mentre all'oratore tocca un lavoro da compiere, l'ascoltatore non debba fare nulla. Credono sia giusto che il primo debba presentarsi previa meditazione e preparazione, mentre loro possono piombare spensierati e ignari del proprio dovere e mettersi comodi, esattamente come se arrivassero per cena. Felici loro mentre gli altri affaticare, perché se ha un compito fin anche il convitato da bene figurarsi il bravo ascoltatore. Egli, infatti, deve essere partecipe della discussione e collaborare con il relatore. Imbastire una caccia micragnosa agli errori, obiettando a ogni parola o fatto la sua precisazione. Non aiuta affatto, soprattutto se l'altro, nel frattempo, dà la sua posizione di uditore, affastella brutte figure e spropositi di ogni sorta, senza che nessuno lo riprenda. Se ciascuno va dal suo, nelle parole c'è una certa coordinazione tra chi parla e chi ascolta. Come se si trattasse di giocare a palla, dove chi la riceve deve muoversi coordinato a chi la lancia. Evitate anche di usare nelle espressioni di elogio le parole come capita. Epicuro, ad esempio, che a proposito delle letterine di suoi amici, dice di sentirne gli applausi scroscianti, è sgradevole. Che dire di questa gente, che adesso se ne viene nelle sale tra il pubblico a diffondere espressioni mai sentite, divino, ispirato, inarrivabile, hanno a dire. Come se non fossero più sufficienti i consueti bravo, ben detto, o vero, usati per manifestare consenso attorno a Platone, i Socrate o i Peride. Costoro sorpassano il limite della decenza e gettano discredito su chi parla, perché lasciano intendere che sia lui a richiedere certi elogi pretenziosi ed esagerati. Danno molto fastidio anche quelli che si abbandonano in giuramenti con chi parla, nemmeno fossero in tribunale a rendere testimonianza. E non sono, da meno, quelli che prendono male la mira parlando delle qualità degli interlocutori, ogni volta che danno a un filosofo del frizzante, oppure dicono a un vecchio forte o grazioso, trasferendo il linguaggio dei divertimenti e dei panegirici da esercitazione scolastica ai filosofi, replicando a un ragionamento meditato con complimenti che faresti a una prostituta. È come voler incoronare un atleta di rose o di gigli, anziché di alloro o di olivo selvatico. Accadde al poeta Euripide, intento a suggerire ai coreuti come mettere in musica dei versi da lui composti, che uno di loro si mettesse a ridere. Se tu non fossi un insensibile e un ignorante, egli rispose, non rideresti a vedermi cantare sulle lugubri note del missolidico. Penso che una persona di caratura filosofica e politica potrebbe mettere a tacere un ascoltatore che si delinquisce in smorfie varie dicendogli «mi pare uno scemo, un incolto, non staresti qui a cinguettare e piroettare alle mie parole, altrimenti, che i miei sono insegnamenti e precetti, qui si parla di religione, di politica, di amministrazione». Figurateveli un po' per davvero i passanti da fuori, mentre il filosofo fa il suo discorso, che restano perplessi a sentire le urla e il baccano, lì a domandarsi se non siano piuttosto acclamazioni per un flautista o un citaredo o per un ballerino. Va anche detto che agli ammonimenti e ai rimproveri non bisogna fare vilmente orecchie da mercante. Chi si ascolta la rampogna del filosofo e la tollera a cuor leggero quasi fosse una cosa da nulla, al punto di ridere quando lo si accusi ed elogiare i suoi stessi accusatori, fa come gli scrocconi con chi li sfama. Quando li insultano, sfacciati e prepotenti fino in fondo, con la loro impudenza, danno prova di un coraggio che non è né buono né autentico. Non c'è dubbio che non prendersela a male il ridere di un motto di spirito non offensivo, che può scappare in un contesto scherzoso, per puro gioco, sia segno di un'indole nobile e ben educata, anzi profondamente tollerante e spartana. Diversa cosa è quando i rimproveri e gli ammonimenti mirano a raddrizzare il carattere per mezzo di parole di accusa aggressive al pari di certe medicine. Stare a sentire senza provare mortificazione, senza iniziare a sudare e tremare, rossi dentro per la vergogna, ma anzi restare indifferenti, un sorriso scansonato sulle labbra, è la classica reazione di un giovane dall'animo gretto e insensibile alla vergogna, che ha fatto ormai da tempo il callo ai propri errori. Il suo animo è una pelle dura e corriacea, i lividi non vi lasciano traccia. Se da un lato quindi costoro sono fatti così, c'è anche un altro tipo di giovani il cui atteggiamento è opposto. Se si sentono rimproverati anche una volta soltanto, girano i tacchi e se la danno a gambe dalla filosofia. Benché la natura li abbia dotati di un senso del pudore, che è una via di scampo istintiva, si perdono per orgoglio e negligenza, perché non sanno reagire alle accuse né accettare con grandezza d'animo le critiche. Costoro, attratti in compagnie piacevoli e lusinghiere, finiscono per dare ascolto a certi adulatori e sofisti, gente inutile da cui non si può cavar nulla, ma che strega con la dolcezza del suo canto. Il paziente che dopo un'operazione si sottrae al medico e rifiuta il bendaggio, si è sottoposto alla parte dolorosa della cura senza accettarne quella benefica. Alla stessa maniera, colui che non lascia il tempo alla parola, che ne ha inciso e ferito la stoltezza di cicatrizzare e guarire, si allontana dalla filosofia, roso dentro e dolorante, ma senza averne ricavato nulla. Non è solo la ferita di Telefo che, come dice Euripide, è guarita dalla fine limatura della punta di lancia. Anche la lacerazione generatasi con la filosofia nei giovani predisposti al bene, è curata, a sua volta, da quella parola che ha ferito. Perciò chi ode il rimprovero deve soffrire, sì, rodersi il cuore, ma mai abbattersi o perdersi d'animo. Come se la filosofia lo iniziasse a dei misteri, e costui, una volta sopportati i sacrifici e il clamore iniziali, sperassi in una dolce e splendida ricompensa al turbamento e al tumulto che sta vivendo. Anche se la critica sembra ingiusta, è bene trattenersi e sopportare pazientemente mentre l'altro parla, e solo dopo, a intervento concluso, avvicinarlo per spiegargli le proprie ragioni e pregarlo di non dimenticarsi di usare la stessa franchezza e lo stesso tono che ha usato nei nostri confronti, anche nel caso di colpe veramente tali. Nelle lettere, con la lira o in palestra, le prime lezioni portano con sé molta ansia, si fa una gran fatica e si capisce poco, ma ecco che, passo dopo passo, andando avanti, succede come con le persone con cui si instaura una frequentazione regolare e quindi una conoscenza. Tutto diviene piacevole, accessibile e semplice a dirsi e a farsi. Accade lo stesso con la filosofia, la quale, benché di primo acchitto per terminologia e problemi abbia di certo un chedi ostico ed estraneo, non deve spaventare e farci desistere, timidi e pusillanimi, ai primi tentativi. Bisogna piuttosto mettersi alla prova a ogni passo, insistere e non vedere l'ora di affrontare quello successivo, e aspettare in questo modo che subentri la consuetudine che sa rendere leggero ogni bene. Entro breve tempo, infatti, essa giungerà a effondere una grande luce sulla nostra conoscenza, infondendo un bruciante anelito alla virtù. Soltanto uno sventurato o codardo può tollerare di viverne senza il resto della propria vita, dopo aver disertato per viltà la filosofia. Ma forse anche l'oggetto di indagine della filosofia all'inizio è un po' difficile da capire, per i giovani alle prime armi. Non di meno, tuttavia, nella scarsa chiarezza e nell'ignoranza, essi incespicano in massima parte per colpa loro, perché a partire da temperamenti opposti commettono lo stesso tipo di errore. Alcuni, infatti, per una sorta di pudore e riguardo nei confronti di chi parla, non si risolvono a chiedere spiegazioni e ad accertarsi delle parole che sentono, e quindi fanno cenni col capo in coro, dando a vedere che hanno capito. Poi ce ne sono altri che, per un senso di rivalità con il prossimo fuori luogo e di nessun profitto, vogliono stentare prontezza nella competizione e buone capacità di apprendimento, e assicurano di aver capito prima che lo abbiano, sicché alla fine non capiscono. Succede così che i primi, schivi e taciturni, ogni volta congedatisi dalla lezione, si dannano e non sanno dove sbattere la testa. Alla fine, spinti dalla necessità, sono costretti a disturbare di nuovo il relatore, con vergogna anche maggiore, e lo inseguono per chiedergli ancora ragguagli. Ciò, mentre quelli ambiziosi e supponenti nascondono e dissimulano l'ignoranza con cui devono convivere. Noi, però, rispingiamo questo genere di debolezza, o viceversa, arroganza, e volgiamoci all'apprendimento e alla comprensione dei concetti utili. Tolleriamo le risate di chi passa per intelligente, come già facevano Cleante e Senocrate, che sembravano meno dotati dei loro compagni, eppure non abbandonavano la via della conoscenza, non si perdevano d'animo. Erano i primi a scherzare su se stessi, quando si raffiguravano come vasi dal collo stretto e tavolette di bronzo, a significare che imparavano a rilento, ma servavano gelosamente e al sicuro quanto appreso. Non solo, infatti, come dice Focilide, bisogna spesse volte essere stati delusi se si cerca di essere per bene, ma in risi e sviliti altrettanto spesso essersi anche presi insulti e buffonate, pur di contrastare con tutte le forze la nostra ignoranza e avere la meglio. D'altra parte, bisogna darsi da fare a non ricadere nell'errore inverso, quello che commette per pigrizia un'altra specie di ascoltatori, sgradevole e barbosa. Benché, infatti, per quel che li riguarda, costoro non vogliano scocciature, ne danno però all'oratore, ponendogli sempre le stesse domande. Se ne stanno come degli uccellini in plumi, col becco sempre spalancato di fronte alla bocca altrui e vogliono prendere la pappa già pronta e masticata da altri. Poi abbiamo quelli che vanno a caccia della reputazione di gente attenta e di puntiglio, lì dove non serve. La loro verbosità e la loro curiosità sono micidiali per chi parla, covano sempre qualche dubbio di quelli che non interessano a nessuno, cercano prove di questioni irrilevanti. Così diviene lunga la strada breve, come dice Soffocle. E mica solo per loro, anche per gli altri. Ogni occasione è buona per opporre a chi insegna domande futili e vuote, come in un viaggio di gruppo. Causano sempre contrattempi al procedere regolare della lezione, soste e perdite di tempo. Secondo Geronimo il filosofo, costoro sono come cagnetti paurosi, ma ostinati, che a casa ti mordono le pelli d'animale e ne sbrindellano le pellicce, ma gli animali in carne e ossa non si accostano. Chiediamo a questi fannulloni, se hanno compreso gli snodi essenziali del discorso, di ricostruirsi da soli il quadro, coi tasselli mancanti, di indirizzarne la concezione complessiva, grazie alla memoria, e così di espandere e aumentare il discorso di origine, prendendolo a mo' di punto o seme di partenza. La mente non è un vaso del resto, non necessita di essere riempita. Essa piuttosto come legna vuole del combustibile, per innescare l'impulso inventivo e lo sforzo verso la verità. È come se uno andasse dai vicini a chiedere il fuoco, ma poi rimanesse da loro per tutto il resto del tempo a scaldarsi, perché là lo ha trovato grande e luminoso. Uno che va ad ascoltare e beneficia della parola altrui senza pensare di dover accendere la propria luce e la sua mente, ma compiacendosi solo di ascoltare, se ne sta al posto suo incantato. Trae solo un'opinione parziale dalle parole, un barlume rossastro e baluginante, mentre la muffa e le tenebre del proprio animo non le ha riscaldate e dissipate, grazie alla filosofia. Ancora un ultimo consiglio sull'arte di ascoltare. Rammenta quanto è stato detto fin qui, ed esercitati a concepire nello stesso momento in cui impari, in modo da acquisire, una mentalità che non sia quella dei sofisti o degli eruditi, ma sia innata e filosofica, persuaso che il primo passo per vivere bene è saper bene ascoltare. L'arte di tacere. È difficile e impegnativa la terapia della filosofia contro la logorrea, giacché la parola, che ne è il toccasana, è appannaggio di chi sa ascoltare, ma i chiacchieroni non prestano orecchio a nessuno, sempre a parlare loro. Qui sta fra l'altro il primo difetto di chi non sa tenere la bocca chiusa, non essere capaci cioè nemmeno di aprire le orecchie. Si tratta di fatti di una forma di sordità deliberatamente scelta da gente che, a mio avviso, rimprovera la natura di aver concesso agli uomini due orecchie, ma una lingua soltanto. Ha detto bene perciò Euripide all'ascoltatore sciocco, chi non sa trattenere io non potrei riempirlo, riversando sapienti parole in chi è del tutto insipiente. Al chiacchierone meglio ancora sarebbe dire, chi non sa contenere io non potrei riempirlo, riversando sapienti parole o piuttosto rovesciando parole sapienti in una persona che parla addosso a chi non l'ascolta, e a sua volta non ascolta chi gli parla. Del resto, quando anche recepisca un minimo, quel poco che sente, risucchiato nel vortice della propria logorrea, lo risputa su due piedi amplificato. Chiamano delle sette voci quel portico di Olimpia che da una sola ne riverbera molte. Così, pure quando una parola, anche la più piccola, solletichi la garrulità, essa subito riecheggia, del cuore, pizzicando le corde che nessuno mai dovrebbe, non è con il loro cuore, però, che comunicano le orecchie, ma piuttosto con la lingua. Perciò, mentre negli altri le nostre parole attecchiscono, ai chiacchieroni scivolano di dosso, rimbombano qua e là come zucche vuote e senza un briciolo di senno. Quando ogni altra soluzione venga meno, rispondiamo al chiacchierone, taci figlio mio, che il silenzio ha molti pregi, due segnatamente i più importanti, l'ascoltare e l'essere ascoltati, ma nell'uno o nell'altro toccano ai chiacchieroni, che anzi desistono d'amire di questo genere. E se tanti altri malanni dell'animo, come l'avidità, l'ambizione, l'edonismo, permettono almeno di raggiungere l'oggetto del proprio desiderio, questo resta un miraggio per i chiacchieroni, che anelano a un pubblico, ma non lo hanno, tutti via a gambe levate. Che si sia seduti in piazza o a passeggio sotto un portico, a vederlo avvicinarsi si danno in men che non si dica segnali di dietro front. Succede come quando in un crocchio di gente qualsiasi cali il silenzio, si suol dire che Ermete è arrivato. Quando il conoscente Ciarliero fa il suo arrivo, in un simposio o a un incontro, tutti tacciono per non offrirgli appiglio, ma non appena costui dischiude le labbra come prima della tempesta, quando Borea soffia attorno al capo, se la danno a gambe i convitati, prevedendo i marosi e il mal di mare. È chiaro che a loro non succeda mai di essere bene accetti, né a cena tra i commensali, né in tenda tra i commilitoni, ma per terra o per mare li si tollera fatica. Il chiacchierone, infatti, vi si parerà ovunque davanti, vi tirerà per la veste, toccherà supplichevole la barba o vi assesterà una bella pacca sulla schiena. «Piedi miei, preziosi quanto mai!» «Per dirla con archiloco, oppure per Zeus», amò del grande Aristotele. Anche egli, infatti, urtato dai cicaleggi senza capo né coda, infastidito dal chiacchierone di turno sempre lì a ripetergli «Non è pazzesco, Aristotele?» finiva per dire «Pazzesco è semmai uno che stia qui a sopportarti, benché munito di piedi». Gli chiese un altro della stessa fatta, dopo aver parlato senza tregua, «Ti annoio mica, mio filosofo?» e «Aristotele, e chi ti segue?» «Per Zeus». Se il chiacchierone è estigato a parlare, la sua mente gli lascia libere le orecchie di essere inondate di chiacchiere da fuori, mentre essa stessa sciorina e persegue tra sé tutt'altre lucubrazioni. Ragion per cui egli non gode di un pubblico attento che gli presti fede, perché così, come dicono, sia sterile lo sperma di chi ha troppi rapporti. Anche la parola del chiacchierone è infeconda e facica lecca. Certo, la natura non ha fortificato nulla meglio della lingua in noi, vi ha messo a guardia la chiostra dei denti perché a forza di mordercela a sangue imparassimo a frenarci, quando anche essa non voglia ubbidire e soggiogarsi alla scintillante briglia dell'intelletto che da dentro tira. Non quando la casa o i risparmi, ma quando una bocca è lasciata a briglia sciolta, la sventura è all'orizzonte, pensava Euripide. Eppure certi prima pensano non ritorni alcun vantaggio a chi abbia una casa senza porte o le tasche un po' bucate, ma a guardare poi le loro bocche senza tappo e filtri di sorta, ribollire senza sosta come quelle del bosforo. Pare proprio che per costoro la parola valga meno di niente. Perciò non ottengono la credibilità a cui ciascuno dei loro sproloqui ambisce, perché, sia chiaro, il loro scopo congenito è quello di risultare attendibili ai propri ascoltatori, ma non convincono, nemmeno quando dicano il vero. È come il grano, lo si trova cresciuto, ma ha variato una volta stipatolo nel vaso. Anche la parola in petto al chiacchierone sa di esagerazione e di bugia, e questo ne azzera la credibilità. Io penso ancora che una persona da bene e assennata si guardi dal bere, perché se la collera, dicono alcuni, è di rimpettaia della follia, l'ubriachezza ne è proprio coinquilina. Meglio sarebbe dire che essa altro non è che una follia di durata inferiore, ma peggiore e permovente, visto che in più uno la cerca da sé. Nessuno degli effetti dell'ubriachezza è biasimato a sua volta quanto la perdita di inibizione e controllo sulla parola. Lo dice il poeta. Il vino, infatti, fa venir voglia di cantare, di abbandonarsi a risa e danze leggiadre, anche all'uomo tutto d'un pezzo. Che c'è di strano? Canti, risa, danze, nulla fin qui. Ma lascia sfuggire qualche parola che sarebbe meglio non dire. Ecco che c'è di strano il rischioso. Così avviene che il poeta, per poco, non risolva la nota querel filosofica e denunci la differenza tra ebrezza e ubriachezza. L'una comporta solo una parlantina sciolta, l'altra farneticazioni tucur, perché quanto la stemio serba in petto al sicuro, l'ubriacone ce l'ha a fior di labbra, dice il proverbio. Così si spiega che Biante, in silenzio durante una bevuta e tacciato di stupidità dal chiacchierone di turno, rispondesse. Uno scemo potrebbe mai tacere in preda ai fumi del vino? Ad Atene, d'altro canto, accadde che un tale che ospitava gli ambasciatori del re facesse di tutto per riunire dinnanzi a loro, che tanto ci tenevano, i filosofi. Mentre però tutti gli altri facevano conversazione, pagando così il proprio obolo, Zenone voleva starsene in pace. Al che gli stranieri, per essere gentili, brindando alla sua, gli chiesero «di te che bisogna dire, Zenone, al sovrano?» «Nulla», rispose, «se non che ad Atene c'è un vecchio capace di osservare il silenzio durante una bevuta». Ecco, il silenzio è qualcosa di profondo e religioso, qualcosa di sobrio, mentre l'ubriachezza è chiassosa, sciocca e riflessiva, perciò è anche garrula. Anche i filosofi, dovendo definire l'ubriachezza, la descrivono come il blateramento di un ubriaco. Nulla da obiettare al vino, quindi, se a esso si accompagna il silenzio, ma il delirio rende da ebbi ubriachi. Se però il beone vaneggia dopo qualche bicchiere, il chiacchierone non smette mai. In piazza, a teatro, da fermo e a passeggio, giorno e notte. Se il tuo medico è peggio della malattia, se ti è compagno di navigazione più nauseante del mal di mare, se ti loda più odioso di chi ti insulta. Meglio per noi, senza dubbio, intrattenerci con uomini di mondo mascalzoni che con galantuomini fanfaroni. Non a caso, il Nestore di Sofocle, volendo calmare a parole a Iace, che con lui è addirato, dice avvedutamente, non ti rimprovero, benché cattivo a parole, sei bravo nei fatti. Ma nei confronti del chiacchierone non possiamo fare così. Là, infatti, le parole fuori luogo annullano qualsiasi merito pratico. Lisia compose per un suo cliente un discorso e glielo diede. Questi, lettolo più e più volte, tornò da Lisia scoraggiato a dire che se il discorso, a una prima scorsa, gli era parso meraviglioso, ripresolo una seconda e una terza volta, lo aveva trovato scuro e impronunciabile. Lisia si mise a ridere. Com'è? Non lo devi forse dire una volta soltanto di fronte ai giudici? Ammira dunque la persuasiva grazia di Lisia. Io dico che egli gode della protezione delle muse, dalle trecce di viola. Omero soltanto ha avuto la meglio sulla facile saziabilità degli uomini. Mai cosa più vera fu detta del poeta, che è sempre nuovo ed eccelle per grazia. Tuttavia, recitando a gran voce quel verso su se stesso, io aborro cantare di storie già da altri diffusamente narrate. Teme quella sensazione di sazietà sempre incombente, ma la sa evitare, poiché conduce da una narrazione all'altra il suo uditorio, e ne previene la noia con continue novità. I chiacchieroni, invece, con i loro discorsi ridondanti, ci graffiano i timpani, come scarabocchiando su una pergamena raschiata di fresco. Pertanto ricordiamo loro questo prima di tutto. Come chi ti costringe a bere fino all'eccesso il vino, che pure fu introdotto per il piacere e l'allegria conviviali, ti spinge alla nausea e alla sbornia, così il chiacchierone rende disumana e socialmente inaccettabile la parola, che abusa e bistratta, nonostante essa sia la più soave e umana delle forme di relazione. Con ciò con cui crede di suscitare piacere, infligge un tormento, desta il riso in luogo di stupore, l'odio anziché la simpatia. Chi scaccia e tiene lontani con il cinto di Afrodite, quelli che frequenta, non è certo caro alla dea del resto. Parimenti, chi fa della parola un odioso strumento di tortura, altri non è che un rozzo individuo in viso alla musa. Le altre affezioni dell'animo umano risultano alle volte pericolose, alle altre odiose o ridicole, ma si tratta di inconvenienti che la logorrea riunisce tutti. I chiacchieroni sono irrisi per i soggetti di conversazione triti, odiati per le loro ambascerie penose e sempre a rischio per la loro incapacità di mantenere i segreti. È per questo che Anacarsi, ospite di Solone, fu visto fare la siesta con la sinistra, a protezione delle parti basse, ma con la destra a tappo della bocca. Pensava che alla bocca servisse un freno più sicuro e pensava bene, perché non è facile numerare tante vittime dell'incontinenza sessuale, quanti invece sono stati gli imperi e le città rovesciati da un segreto di troppo spifferato. Silla, ad esempio, stava assediando Atene, ma non aveva l'agio di trascorvervi molto tempo, che una fatica maggiore già lo incalzava. Mitridate gli aveva infatti strappato l'Asia, mentre la fazione di Mario a Roma aveva ripreso il potere. Le sue spie, tuttavia, gli riferirono di aver sentito certi vecchi blaterare dal barbiere. La porta dell'Eptacalco non era sorvegliata, pareva, e di lì rischiava di essere conquistata la cittadella. Silla, allora, vi fece spostare l'armata nel bel mezzo della notte. Mancò poco che la città non fosse ridotta in macerie, piena di distruzione e morte, al punto che il ceramico fu inondato di sangue. E Silla fu duro verso gli Atenesi, più per le loro parole che per le loro azioni. Costoro avevano infatti ingiuriato sia lui che Metella, sua moglie. Li avevano insultati dall'alto delle mura. Silla e paonazzo come una mora cosparsa di farina. E si sperticavano in stupitaggini del genere, tirandosi addosso, per dirla con Platone, la pena più grave per le parole, che sono la cosa più leggera di tutte. Anche Roma furono le ciance di uno solo a impedirle di tornare libera, allorché volle sbarazzarsi di Nerone. Mancava una notte soltanto, dopodiché il tiranno sarebbe dovuto morire. Tutto era pronto. Il sicario, mentre procedeva in direzione del teatro, ne vide un prigioniero sulle soglie, mentre veniva sospinto al cospetto di Nerone. E lamentava il proprio destino, e gli si fece vicino per sussurrargli, «Amico, prega perché passi quest'oggi soltanto, e domani mi ringrazierai». Quello afferrò il senso del segreto, e pensò, io credo, sciocco chi abbandona la via certa per quella ignota, sicché scelse la salvezza più sicura al posto di quella più giusta. Denunciò a Nerone la soffiata di quel tale, e costui subito lo fece acciuffare, e giù di torture, fuoco e frustrate, da che negava sotto costrizione ciò che costretto da nessuno aveva spifferato. Il filosofo Zenone, dal canto suo, affinché il corpo sotto coercizione non si lasciasse sfuggire un qualche segreto contro il suo volere, arrivò a mordersi di netto la lingua, e sputarla in faccia al tiranno. Vi fu anche Lina, che ebbe una bella ricompensa per il proprio autocontrollo. Cortigiana della cerchia di Armodio e Aristogitone, partecipò alla congiura ordita contro i due tiranni, ancorché soltanto emotivamente, in quanto donna. Anche ella, infatti, si mise a danzare attorno a quel bel cratere di Eros, e dal dio veniva iniziata a quei misteri, ma allorché gli altri caddero in fallo e furono uccisi, Costei, spinta sotto interrogatorio a confessare i nomi mancanti, non parlò. Resistette, anzi, a dimostrazione che l'amore che quegli altri uomini avevano provato per lei, una donna tale, era degno dei loro animi. Gli ateniesi, in seguito, le avrebbero eretto e dedicato una lionessa di bronzo, priva di lingua, all'ingresso dell'acropoli. Il coraggio dell'animale ne rievocava il carattere invincibile, mentre il fatto che fosse privo della lingua, la religiosità del suo silenzio. Non c'è parola detta che abbia giovato quanto le molte taciute. C'è sempre modo, infatti, di dire ciò che si è taciuto, ma non di tacere ciò che si è detto, e che ormai è già fuoriuscito e va diffondendosi. Credo ne sia una dimostrazione il fatto che, se del parlare sono maestri gli uomini, del silenzio lo sono gli dèi, che nei riti misterici e iniziatici lo prescrivono. Il poeta, in realtà, ha reso taciturno il loquace Odisseo, non meno che suo figlio, sua moglie e la sua nutrice. Quest'ultima la senti come dice «forte sarò come il legno di quercia o il ferro». Odisseo stesso, seduto accanto a Penelope, aveva dentro di sé compassioni di sua moglie in lacrime, ma gli occhi restarono fissi come di corno o di ferro, non un battito di ciglio. A tal punto aveva il dominio di ogni parte del suo corpo e ogni sua facoltà sottomessa, e alle dipendenze dell'intelletto, che riusciva a ingiungere agli occhi di non piangere, alla lingua di non sciogliersi e al cuore di non tremare né ringhiare. A lui non cedeva il cuore, saldo nell'obbedienza. Perfino i movimenti involontari ne assecondavano il raziocinio, aveva reso disciplinati e soggetti a lui anche la circolazione e il respiro. Come Odisseo erano molti i suoi compagni. Non lo tradirono né svelarono al ciclope l'esistenza di quell'arma arroventata, congegnata per l'accecamento, benché questi li trascinassi e scaraventassi a terra. Essi preferirono essere divorati crudi, piuttosto che lasciarsi sfuggire un qualche segreto, una dimostrazione di fermezza e fedeltà straordinaria, che non può passare in sordina. Per questo, quando il re d'Egitto inviò al tiranno Pittaco, una vittima per il sacrificio, chiedendogli di sceglierne le carni migliori e le peggiori, questi ebbe una bella pensata a inviargli la lingua, l'organo fonte dei beni, ma anche dei mali peggiori. Sul proprio conto, anche l'Aino di Euripide dice di sapere in tutta franchezza, tacere quando serve e parlare se è sicuro. Non a caso, impara a tacere ancor prima che a parlare, chi ha ricevuto un'educazione con la lettera maiuscola, degna di nobili e re. Il re Antigono, per esempio, quando il figlio gli chiese a che ora avrebbero levato le tende, rispose, di che ti preoccupi, di non essere l'unico che non senta la tromba? Possibile che non volesse confidare un'informazione segreta a chi si apprestava a esserne il successore? Piuttosto volle insegnargli a essere vigile e padrone di sé in questi frangenti. Qualcosa del genere fu chiesto anche al vecchio Metello durante una campagna, e questi, se mi fossi figurato, disse, che la mia tunica era al corrente di questo segreto, l'avrei tolta e gettata nel fuoco. Dal canto suo, nemmeno Eumene, quando seppe che cratero muoveva contro di lui, lo disse a qualcuno degli amici. Anzi, mentì. Disse che si trattava di Neottolemo, da che i soldati disprezzavano il secondo, mentre del primo ammiravano i successi e apprezzavano il valore. Non lo seppe nessun altro. Sferrato l'attacco, ebbero la meglio, e uccisero cratero senza saperlo. Ne riconobbero il cadavere. Fu così che il silenzio fu stratega in campo, e tenne celato un avversario di levatura tale che gli amici di Eumene, più che criticarlo, lo ammiravano per non averli avvisati. L'obbiasimo pure, in fondo. Sul banco degli imputati, meglio vivi in mala fede che morti in buona fede. Diciamoci la verità. Chi è che, in tutta onestà, si può concedere la licenza di parlare contro chi non ha tenuto la bocca chiusa? Se una cosa doveva rimanere segreta, non è bene che venga detta ad altri. Sfugge a te il segreto, e finisce a un altro. Sei ricorso alla lealtà altrui, a prezzo della tua. Fosse anche quest'altro come te, sei perduto, ben ti sta. Ma se è una persona migliore, ti salvi solo perché a sorpresa hai trovato qualcuno più affidabile di te. Ma se quello è amico mio, e un altro è amico suo, e anche quello ha fiducia in lui, come io in te, e così quell'altro in chissà chi. Peccato che, sia una volta nel confessarlo, eccoti che il segreto piglia a crescere e a moltiplicarsi. È come il numero uno, che se lo moltiplichi per se stesso, uno è e uno resta. Non per nulla si chiama unità. Il due, invece, è il primo numero a segnare la moltiplicazione senza limite. Lo moltiplichi per due, e subito si trasforma in un suo multiplo. Lo stesso succede con la parola. Fintanto che rimane al primo, è un segreto sul serio. Ma già quando finisce in bocca un secondo individuo acquista il grado di diceria. Il poeta parla di parole alate. Proprio perché un volatile sfuggito dalle mani è difficile da riprendere, e riacciuffare una parola che ci è sfuggita di bocca e riportarla sotto il nostro controllo non è possibile, ma essa spicca il volo agile in giro, diffondendosi di bocca in bocca. Se una nave è aggredita dal vento, l'equipaggio ne mantiene il controllo e ne riduce la velocità con gomene e ancore. Ebbene, per la parola, un po' come se fosse salpata da un porto, non c'è però ormeggio o ancoraggio che tenga, ma viaggiando fragorosa e decheggiante, si infrange e affoga con sé nell'ampio e orribile mare del pericolo chi l'ha pronunciata. Basterebbe la più piccola face per appiccare il fuoco alla Rocca dell'Ida e una parola scambiata con una persona soltanto, per rendere dotta l'intera città. Da molti giorni ormai il Senato di Roma teneva una seduta a porte chiuse. Siccome non ci si vedeva chiaro e la cosa destava parecchio sospetto, una donna, per carità, per il resto assennata, ma pur sempre una donna, continuava ad assillare il marito. Moriva dalla curiosità di conoscere il segreto di quella seduta. Via di giuramenti e spergiuri circa il proprio silenzio e pianti e strilli. Non ti fidi di me? Basta, hai vinto, donna! Disse a un certo punto quel romano e volendo metterla davanti alla sua fatuità soggiunse. Ma bada che si tratta di una faccenda spaventosa da far accapponare la pelle. I sacerdoti ci hanno detto di aver visto volare una lodola con tanto di elmo d'oro e lancia. Stiamo quindi valutando se il prodigio sia fausto o meno. Non si sa. Stiamo interpellando gli indovini. Acqua in bocca però. Ciò detto se ne andò verso il foro. Subito quell'altra tira a sé la prima servetta che le capita sotto mano e prende a battersi il petto e a strapparsi i capelli. Ah, sventurato il mio sposo! Sventurata la mia patria! Ora che sarà di noi? Vuole indurre la serva a chiederle che cosa è successo? E quando questa finalmente fa la domanda, quella racconta tutto, chiudendo, come di rito, con il ritornello di ogni pettegolezzo. Non dirlo ad anima viva, mi raccomando, stati zitta. La servetta da parte sua non fa in tempo a separarsene, che subito adocchia una compagna più in panciolle delle altre e le vuota il sacco. E quest'altra ne parla al fidanzato che è venuto a trovarla. La voce fa tal punto il giro della città, che ne giunge notizia al suo creatore, imbattutosi in un conoscente. Stai venendo ora da casa al foro? Gli chiede. Orora? Risponde. E non hai saputo? Che c'è di nuovo? Una lodola è stata vista volare con tanto di elmo dorato e lancia. È per questo che i magistrati vanno a convocare il senato. E l'altro a ridere. Benedico la sveltezza, moglie mia, per aver fatto arrivare la notizia prima di me in piazza. Andò prima dai magistrati a sedare quel gran chiasso, e poi rincasato, si prese la rimincita con la moglie. Mi hai distrutto, donna. Che il segreto sia filtrato fuori da questa casa è di dominio pubblico. Ora mi toccherà andare in esilio per la tua lingua lunga. Ma quella subito negava e ribatteva. Non hai ascoltato questa storia assieme agli altri trecento? Ma trecento chi? Sei stata tu a costringermi a inventare qualcosa di sana pianta. Fu così, dunque, che costui saggiò, in tutta sicurezza e prudenza, la tenuta di sua moglie, come quando in un orcio incrinato si versa non vino o olio, ma acqua. Che dire di Fulvio, amico di Augusto, quando egli si era ormai fatto vecchio, l'udiva piangere la solitudine della casa, quei due nipoti che aveva perduto, e postumo che è l'ultimo rimasto, ma è in esilio per non sa quale calugna. Augusto non ha altra scelta che ammettere alla successione al potere il figlio di sua moglie, ciò benché gli pianga il cuore e desideri richiamare dal confino il nipote. Questo riglia Fulvio e questo riferisce a sua figlia, quella a sua volta a Livia. E Livia rimprovera duramente Augusto. Era da tempo che la pensava così, e non di meno. Anziché richiamare il nipote, la metteva in condizione di scontro e inimicizia con il suo successore al potere. Al suo arrivo, come al solito di buon mattino, Fulvio lo salutò. Salve Cesare, stammi bene, Fulvio, di tutta risposta. Resosi conto, questi prese congedo, e corse dritto a casa in cerca della moglie. Cesare sa, le disse, che non ho mantenuto il suo segreto, e per questo sono sul punto di farla finita. E la moglie, e fai bene, perché, nonostante sia una vita che stiamo insieme, non mi conosci, e non ti sei guardato dalla mia debolezza. Lascia però che sia io la prima, al che, presa la spada, si uccise prima del marito. Eloquenta a tal proposito la risposta di Filippide, il commediografo, nelle grazie del re Lisimaco. Quando questi gli chiese, che cosa vuoi condividere di mio? Egli ribatte, quello che ti pare, mio re, ma non i tuoi segreti. Dal chiacchierare, infatti, discende un altro difetto peggiore, quello di ficcanasare. Chi vuole sapere molto, lo fa per avere molto da riferire. Gira e rigira, i chiacchieroni finiscono sempre per fiutare i discorsi segreti, o riservati, e batterne la pista, per poi metterli in bella mostra sul banco della loro insulsaggine, come paccottiglia. Poi, quei segreti fanno come i bambini con un ghiacciolo, quando non sanno se tenerlo o gettarlo. No, meglio, come serpi se li fagocitano e se li mettono in seno, gli altrui segreti, e poi non li sanno trattenere e finiscono per esserne corrosi. Sembra appunto che anche il pesce ago e la vipera si lacerino durante il parto, proprio come i segreti distruggono chi non li sa tenere e se li lascia scappare. Il re Seleuco, il trionfatore, perse truppe e potere durante la battaglia contro i Galati, e strappatosi di dosso il diadema, fuggì a cavallo insieme ad altri tre o quattro fidati. Fu una lunga corsa, tutta strade sterrate e deviazioni. Stava già per cadere agli stenti quando giunse a una piccola fattoria, e trovandovi il padrone, gli chiese pane e acqua. Il padrone, mentre con cortesia gliene offriva in abbondanza, assieme agli altri prodotti della campagna, riconobbe il viso del re, e, onorato dalla circostanza fortunata di poterlo servire, non stette più nella pelle, non riuscì a dissimulare di fronte a lui, nonostante questi volesse rimanere in incognito. Così il buon uomo, dopo averlo scortato fino alla strada, gli disse a modi congedo «Addio Seleuco, mio re!». Allora Seleuco gli tese la mano destra e fece per accoglierlo in un abbraccio, mentre al suo cenno uno del suo seguito lo sgozzò con la spada. Parlava ancora, che la sua testa ruzzolò nella polvere. In fondo, credo che se costui fosse stato capace di tacere un po' più a lungo in quella occasione, il re, tornato al potere ai fasti di prima, lo avrebbe ricompensato più per il suo silenzio che non per la sua ospitalità. È vero che la debolezza di questo poveretto può essere addebitata alle sue attese e alla sua ospitalità. Tuttavia, la gran parte dei chiacchieroni non ha scuse per rovinarsi così. È il caso, per esempio, di quella volta che da un barbiere fiorivano discorsi sulla tirannide di Dionigi, inossidabile come l'acciaio, la definivano. Venne da ridere al barbiere. Mentre voi ve ne state a parlare in questi termini di Dionigi, io, un giorno sì e uno no, ho la lama del rasoio sul suo collo. Lo seppe Dionigi e lo fece appendere in croce. Di norma, la categoria dei barbieri è linguacciuta, del resto, ma più chiacchieroni di tutti, sono i loro clienti. Una sfilata di gente che si mette seduta comoda finché non li ha contagiati per dimestichezza. Un tocco di stile ebbe a tal proposito il re Archelao, cui un barbiere chiacchierone, mentre lo cingeva con l'asciugamano, domandò «Come ti devo tagliare i capelli, mio sovrano?». In silenzio tagliò corto il re. Un barbiere era anche colui che per primo riportò agli Atenesi la notizia della loro debacle in Sicilia. Ne è informato al Pireo, da schiavo disertore proveniente da lì. Chiusa a bottega, si precipita per di fiato alla Rocca, perché nessuno se ne assumesse la gloria, comunicando la notizia alla cittadinanza, e lui arrivasse troppo tardi. Come è ovvio, si scatena l'inferno. Riunitosi in assemblea, il popolo vuole mettersi sulle tracce di questa voce. Il barbiere viene allora fatto entrare e interrogato, ma dice di non sapere il nome di chi glielo aveva detto, di essere in grado di risalire soltanto al viso senza nome di uno sconosciuto. Il teatro prorompe in un grido di rabbia. «Torturatelo, ha la ruota questo maledetto! Se l'ha inventata e l'ha messa insieme a lui questa storia! Chi altri l'ha sentita? Chi mai gli ha dato retta?» Portano la ruota e ce lo stendono sopra, ma ecco giungere gli ambasciatori della sventura, che dalla Sicilia se l'erano data a gambe levate proprio da quegli eventi. Tutti se ne vanno a piangere le proprie perdite, lasciando il povero diavolo legato alla ruota. Quando solo più tardi, ormai all'imbrunire, fu liberato, chiese al boia se non avessero saputo anche di Nisha, della brutta fine che aveva fatto. Ecco in che sorta di mali, senza preavviso e senza rimedio, la sua effazione alle chiacchiere si può trasformare. È proprio vero che l'ambasciator che porta pena è in viso al suo auditorio proprio come le medicine amare e maleodoranti. Chi le beve ne disprezza anche il bicchiere. È la ragione per cui Sofocle si è chiesto, in versi raffinati, nelle orecchie o nell'animo, dove ti punge? A che provo a individuare l'origine del mio male? Chi ne è autore ti affligge nel cuore, io nelle orecchie. Chi parla, insomma, fa del male al pari di chi agisce. Purtuttavia, per una lingua lunga non c'è morso sferza che tenga. A Sparta trovarono il tempio di Atena calceca saccheggiato. Al suo interno restava solo un fiasco vuoto a terra. Fra i molti accorsi serpeggiava il dubbio naturalmente, ma uno di loro parlò. Se lo desiderate, vi spiegherò io che mi fa venire in mente questo fiasco. Io credo, cioè, che prima di un'impresa così rischiosa, i profanatori abbiano bevuto la cicuta e si siano portati appresso il vino. In questo modo, se fossero riusciti a farla franca, avrebbero potuto allontanarsi in tutta sicurezza, una volta assunto il vino schietto che placa il veleno e ne stempera l'efficacia. Ma nel caso fossero stati catturati, grazie al veleno, avrebbero trovato una morte facile e indolore, prima della tortura. Quanto disse, risultò un fatto talmente ben congegnato e astuto da suonare più come una confessione che una semplice congettura. Presero quindi a interrogarlo gli astanti, chi da un lato, ma chi sei, chi dall'altro, chi ti conosce, e ancora, dove sei venuto a saperle queste cose? Lo misero così sotto pressione alla fine, che ammise di essere uno dei profanatori. E gli assassini di Ibico non furono smascherati anche loro alla stessa maniera? Se ne stavano seduti a teatro, quando apparvero delle gru in cielo, e loro a bisbigliarsi l'un l'altro ridacchiando... Ecco le vendicatrici di Ibico! Li sentirono i vicini di posto, e siccome già da un pezzo di Ibico si erano perse le tracce e lo si stava cercando, colsero l'allusione e andarono a riferirla alle autorità. Messi sotto accusa, finirono in prigione così. Non erano state le gru a ripagarli, ma la loro stessa sbruffonata, una sottospecie di erinni o di vendetta, che li aveva spinti a confessare l'omicidio. Le parti del corpo affette da dolore tendono ad attrarre quelle limitrofe. È ciò che accade alla lingua dei chiacchieroni. Perennemente infiammata da spasmi, essa tira e raccoglie su di sé certa parte dei segreti inconfessabili. Per questo deve essere arginata e ostacolata da una barriera, la ragione che ne contenga flusso e portata. Eviteremo almeno di sembrare più stupidi delle oche. Narrano, infatti, che le oche prendano nel becco una grossa pietra, a mo' di tappo o morso, quando dalla Cilicia trasvolano sopra le montagne del Tauro, popolate dalle aquile, così da soffocare i loro starnazzi e superare nottetempo la zona senza farsi sentire. Se adesso mi chiedesse qualcuno di voi, chi è il tipo peggiore e il più micidiale? Chi altri se non il traditore? Chi mai si sognerebbe di trascurarlo? Fa il caso nostro Euticrate, il quale si fece un tetto con legno di Macedonia per citare Demostene, oppure Filocrate, che presasi una montagna di soldi, comperava pesci e puttane. E se hai traditori di Eretria, Eufurbo e Filagro, il re diede in dono delle terre, il chiacchierone non è traditore che abbia un prezzo, ma fa gratis il suo lavoro. Al nemico non consegna cavalli o fortezze, ma divulga i segreti durante i processi, durante le rivoluzioni e le lotte politiche. Non c'è bisogno di dir grazie perché a lui, già quando lo ascolti, stai facendo un piacere. Sicché è azzeccato quel verso dedicato a chi va a dilapidare i propri beni in giro, senza pensarci troppo e li concede avventatamente, non è che sei immunifico, ti piace scialacquare, la tua è una malattia. Nonché l'altro a chi parla vanvera, se vai in giro a riferire, non sei amico o in buona fede. Ti piacciono le chiacchiere e il pettegolezzo, la tua è una malattia. Non la si prenda come un'accusa, piuttosto come una diagnosi della garrulità. Con giudizio e disciplina possiamo sì prevalere su queste passioni, ma il giudizio viene per primo. Nessuno è avvezzo a stare alla larga e sbarazzarsi di una parte del carattere che non disprezza. Questo genere di passioni le disprezziamo piuttosto, quando a pensarci lucidamente i motivi di danno o vergogna che procurano ci siano patenti. Pensiamo quindi lucidamente a quello che abbiamo detto sul conto dei chiacchieroni. Vorrebbero essere amabili, ma non li tollera nessuno. Vorrebbero risultare bene accetti, ma sono sempre inopportuni. Vorrebbero impressionare e invece tutti li scherniscono. Abbiamo detto di loro che dilapidano tutto senza incassare un centesimo, che nuocciano agli amici, fanno la fortuna dei nemici e si rovinano da soli. C'è una cura, c'è una medicina prima di tutto il resto. Fare una stima dei mali e dei dolori causati da questo vizio per l'appunto. Sull'altro piatto della bilancia vanno messi quelli d'indole opposta, chi è sempre pronto ad ascoltare e ha buona memoria, e ha sempre pronte lodi per la riservatezza e per il carattere venerabile, sacro e religioso del silenzio. Bisogna considerare che chi è appropriato e conciso, chi sa concentrare la densità del proprio pensiero in un eloquio scarno, sa suscitare più ammirazione e simpatia, e sa apparire più assennato di chi parla e sproloquia in lungo e in largo. Platone loda le persone così, dice che coloro che articolano discorsi involuti, ma di senso completo e denso, assomigliano a lanciatori di giavellotti formidabili. Una propensione, che Licurgo rafforzò col silenzio, si da bambini nei suoi concittadini, li rese densi e concisi nel parlare. Come i Celtiberi temprano il ferro, quando lo raffinano da molte impurità minerali immergendolo nella terra, così anche la parola sparta non ha una vernice di retorica, ma è temprata come il loro ferro, perché va dritta al punto per sottrazione dell'orpello. Questo loro carattere sentenzioso, la sagacia e versatilità delle loro risposte, dunque, sono frutto di un assiduo esercizio al silenzio. Anzitutto, modelli del genere devono tenere davanti agli occhi i chiacchieroni, quanta forza ed eleganza essi abbiano. Per esempio, quello secondo cui gli spartani a Filippo, Dionigi a Corinto, o anche quando scrisse agli spartani, se scendo in laconia vi distruggerò, quelli risposero solo «se» e, allorché il re Demetrio, su tutte le furie, tu o no, al mio cospetto questi spartani un solo ambasciatore hanno inviato. L'ambasciatore, per nulla scosso, replicava «uno alla volta». Anche la concisione dei nostri avi è motivo di ammirazione. Sul tempio di Apollo Pinzio di Delfi, gli anfizioni non hanno inciso l'Ilia dell'Odissea intere, o Ipeana di Pindaro. No, solo poche frasi. Conosci te stesso, nulla di troppo. Da un pegno. La rovina è vicina. Mostrando di ammirare un dettato nitido e squadrato, che racchiude in poche parole un concetto scolpito nel marmo. Lo stesso Apollo, nei suoi oracoli del resto, non ama essere sintetico e incisivo? Non lo chiamano l'obliquo, proprio per questa sua avversione per la prolissità, più che, io direi, per la sua ambiguità? C'è poi chi esprime ciò che vuole senza fiatare, con un cenno. Non si attirano ancora di più elogi e ammirazione costoro? Come Eraclito, che alla richiesta dei cittadini di un suo parere sulla concordia, salì sul podio con un bicchiere di acqua fresca in mano, lo cosparse di farina, lo agitò con un ramoscello di menta, poi beve d'un fiato e se ne andò. Aveva dimostrato che per preservare in pace e concordia le città bisogna accontentarsi di quel che si ha, senza aspirare a lussi e ricchezze. Sciloro, il re degli sciti, lasciava al mondo tanta figli. Sul letto di morte chiese un fascio di frecce che gli esortava a frantumare in mille pezzi, ancora riunite e legate assieme. Ma quando essi desistettero, estrasse lui stesso una per una tutte le frecce e le spezzò senza sforzo. Un segno, il suo, di come la sintonia e la concordia costituissero il loro punto di forza indistruttibile, mentre la divisione li avrebbe indeboliti e compromessi. A seguire costantemente e ripercorrere esempi di questo tipo, il gusto di cianciare verrebbe meno, probabilmente. Dal canto mio arrossisco soprattutto se penso a quel servo, se considero che gran ruolo giocano in quel frangente l'attenzione alle parole e il dominio degli impulsi. Il retore Pupio Pisone desiderava non essere disturbato e aggiunse ai servi di rispondere soltanto alle sue domande, senza nulla aggiungere. In seguito, volendo accogliere Clodio, in carica al momento, diede ordine di imbandire una cena coi fiocchi, come si conveniva, e di invitarlo. L'ora era quasi arrivata. C'erano tutti, meno che Clodio, il quale si faceva aspettare. Pisone allora manda avanti e indietro il servo addetto agli inviti, a controllare che non stia arrivando, ma quando cala la sera, perde ogni speranza, e domanda al servo, ma come mai? Sei sicuro di averlo invitato? L'ho invitato sì! E perché allora non si è presentato? Ma perché aveva declinato? Come? E perché non me lo sei subito venuto a dire? Perché tu non me lo hai chiesto? Ciò perché era il servo di Roma, mentre quello di Atene, mentre Zappa, spiegherà al padrone a che patti si sia giunti alla pace. L'abitudine, insomma, gioca sempre una parte importante. Veniamo ora a trattare proprio di questo. Non è possibile inibire il chiacchierone come con delle redini. Bisogna che le buone abitudini reprimano la malattia. Come prima cosa, allora, impari a tacere quando gli altri pongono delle domande, finché tutti non si siano rifiutati di rispondere. Il traguardo di un parere non è quello di una gara, ci rammenta Sofocle. Tanto o meno lo è quello di una parola o di una risposta, da che se in quel caso vince chi arriva primo, nel nostro, quando un altro ha già dato una risposta esaustiva, si fa più bella figura a tesserne le lodi, a esprimere assenso guadagnandosi la reputazione di persone garbate. Oppure, solo nel caso contrario, non è fuori luogo né sgradevole dare qualche informazione ulteriore e colmare le lacune. Facciamo attenzione soprattutto quando la domanda è rivolta a un altro. Non oscuriamolo prevenendone la risposta. Forse relegare l'altro in secondo piano e rispondere in prima persona non è comunque buona norma. Daremo l'impressione in un sol colpo di voler liquidare l'interpellato, neanche fosse incapace di rispondere e rimbrottare l'interpellante, quasi non sapesse a chi è il caso di fare le domande. Risposte precipitose e sfrontate come queste sono le più offensive. Chi precede l'interrogato nelle risposte ha l'aria di uno che dice «perché chiedi a lui?» oppure «e questo che ne sa?» o ancora «quando ci sono io, sul tema non risponde nessun altro». C'è anche da dire che spesso interpelliamo certe persone senza che ce ne interessi il parere, più che altro per suscitare una reazione e il loro favore, per chi li vogliamo trascinare nella discussione, come fa Socrate con Teeteto e Carmide. Anticipare le risposte altrui, captare l'uditorio e concentrarne l'attenzione su di noi, distogliendola da altri, è un po' come correre incontro a braccia aperte a uno che desidera abbracciare qualcun altro, o, se sta guardando qualcun altro, farlo voltare verso di noi. Laddove l'interrogato non risponda, è bene frenarsi e rimettersi al volere di chi ha fatto la domanda, così da entrare nella risposta altrui in punta di piedi e con eleganza. Del resto, se l'interpellato sbaglia a rispondere, giustamente va perdonato, ma chi si espone deliberatamente e sottrae la parola, che già è spiacevole quando ha ragione, se ha anche torto, è davvero uno spasso, ed è schernito da tutti. Sulle risposte che siamo chiamati a dare in prima persona, c'è anche un secondo esercizio. Il chiacchierone dovrà farci la massima attenzione. Tanto per cominciare, badi a non rispondere sul serio a chi lo chiama a parlare per beffa o ripicca. C'è chi non ha bisogno di sapere nulla, infatti, e però mette assieme per passatempo o per gioco certe domande che poi propone ai chiacchieroni, stuzzicandone la fanfaronaggine. Si tratta di un comportamento che va tenuto d'occhio, non bisogna buttar lì una risposta in tutta fretta e magari dire pure grazie. Nel caso in cui sia evidente che costui ha davvero voglia di sapere, ci si deve educare a pensarci un po' su, a fare una pausa tra la domanda e la risposta. Una pausa in cui chi pone la domanda, se vuole, può aggiungere qualcosa, mentre chi deve rispondere valuta per bene con quali argomenti farlo, senza aver fretta di replicare fischi per fiaschi, mentre l'altro sta ancora parlando. Era la pizzia, colei che dava alcuni dei suoi risponsi ancor prima della domanda, ma il dio che lei serviva ode il muto e ascolta chi non parla. Chi vuole rispondere a tono deve insomma aspettare con pazienza l'intenzione e studiare nei particolari il disegno dell'interlocutore, per non prendere, come dice il proverbio, lucciole per lanterne. Deve inoltre reprimere questa sete inestinguibile di parole. Alla domanda, perciò, eviti di dare l'impressione di vomitare con soddisfazione un fiotto di parole lungamente trattenuto dalla lingua. Socrate, per esempio, disciplinava la propria sete in questa maniera. Non si concedeva ristoro dopo la palestra se non dopo aver riempito una prima volta un'anfora e averla svuotata, di modo da temprare il proprio istinto ad attendere il momento buono per parlare. Ci sono tre modi di rispondere a una domanda, stringato, educato oppure sovrabbondante. Mettiamo che un tale voglia sapere se Socrate è a casa. Il primo, controvoglia e quasi a sforzo, gli risponde soltanto no, non è a casa. Se invece vuole essere laconico, nel vero senso della parola, ometterà la frase non è a casa e proferirà soltanto la negazione, come i laconi appunto. Filippo domandò loro per lettera se volessero accoglierlo in città ed essi, per tutta risposta, gli spedirono un foglio con su scritto un no, grande come una casa. Il secondo, più dà bene, dice, non è casa, è andato al banco di cambio, tutt'al più, se vuole essere un po' più preciso, è là da aspettare dei forestieri. Il terzo, lo quace all'eccesso, se gli è capitato per le mani antimaco di Colofone, e lo ha letto, risponde, non è a casa, ma è andato al banco di cambio ad aspettare dei forestieri da Laonia, dei quali gli ha scritto Alcibiade, che era dalle parti di Mileto e alloggiava da Tissaferne, il satrapo del gran re di Persia, che un tempo appoggiava gli spartani. Ma ora, grazie ad Alcibiade, è passato dalla parte degli Ateniesi, perché Alcibiade aspirava a rientrare in patria e quindi ha fatto cambiare idea a Tissaferne. Sciorinerà per filo e per segno l'ottavo libro di Tucidide e subisserà quel poverino fino ad arrivare alle ostilità con Mileto e al secondo esilio di Alcibiade. Su questo punto, più degli altri, la chiacchierava tenuta a bada. In un certo senso, bisogna restare nel solco tracciato dalla domanda e circoscrivere la risposta entro i bisogni dell'interlocutore, che ne sono il centro e il raggio. A tal proposito, una volta Carneade, prima di diventare così famoso, stava discutendo in palestra, allorché il capo del ginnasio lo mandò a chiamare e gli intimò di abbassare il tono della voce. Aveva un vocione e Carneade disse «Indicami la misura in cui abbassarla. Ti indico il tuo interlocutore». La misura, per chi risponde, consista quindi nell'esigenza di chi ha chiesto. Socrate voleva tenere sotto controllo i cibi che fanno gola, anche senza i morsi della fame, o le bevande che viene voglia di bere senza avere sete, e il chiacchierone pure faccia lo stesso con le parole che si compiace di usare, che ha usato fino alla nausea. Nesti alla larga le reprima quando stanno per sgorgargli dalle labbra. I soldati, per esempio, raccontano volentieri. Non è un caso che il poeta introduca il personaggio di Nestor in questa veste. Egli narra i suoi ripetuti successi e le sue imprese. Così si spiega, fra l'altro, che chi vince una causa, o a sorpresa prospera all'ombra di re e condottieri, incorre in una specie di malattia, sempre intento a rammentare e raccontare. Come è entrato in scena, come è stato presentato e come si è battuto, come ha arringato il pubblico ed è riuscito a smascherare l'avversario o l'accusatore e gli elogi che si è guadagnato. La gioia è molto più eloquente della celebre insogna nella commedia, perché si rinfocola di continuo e si rigenera nei racconti. E per questa ragione i chiacchieroni sono inclini con un pretesto qualsiasi a ricadere in questo tipo di discorsi. Non è solo la lingua che batte dove il dente duole. Anche l'autocompiacimento attira su di sé la voce e guida la lingua a battere sulla memoria. Anche gli innamorati passano la maggior parte del loro tempo su parole evocative degli amanti. Se non c'è anima viva a cui parlare, dialogano con gli oggetti che li circondano. O letto amatissimo, beato te, lumicino, che per bacchide eri un dio. Se sembri così a lei, di tutti i numi tu sei il più grande. Il chiacchierone e il suo sproloquiare sono una cosa sola. Non di meno, chi predilige certi argomenti va di loro bene, va di assottrarvisi e a tenerli il più lontano possibile, poiché possono sempre farlo disperdere e dilungare per il piacere che gli suscitano. Fanno lo stesso con quei temi di conversazione in cui credono di spiccare rispetto alla media, perché se ne ha esperienza e padronanza. Il chiacchierone è infatti narciso e vanaglorioso. Là trascorre gran parte del suo tempo, ove gli possa vincere se stesso. Le narrazioni di storia, il lettore vorace, le quisquiglie, il grammatico, i racconti di terre lontane, il viaggiatore per terra e per mare. Insomma, bisogna fare attenzione anche qui, perché una volta che la chiacchiera ha abboccato al loro amo, procede su pascoli noti, come un animale. Straordinario era Ciro, piuttosto, che quando gareggiava coi propri coetanei non li spingeva su un terreno a lui favorevole, ma dove anzi lui era più inesperto di loro. Questo per non addolorarli in caso di vittoria, oltre per guadagnarci in esperienza. Il chiacchierone è tutto al contrario. Se per puro caso fiuta una conversazione, che può istruirlo e informarlo su qualcosa che ignora, la respinge e tergiversa, incapace di pagare uno scotto tanto misero quanto quello di zittirsi. Gira e rigira, dirotta la discussione sulle rhapsodie già sentite, trite e ritrite. Come è successo a me con quel tizio, a cui era capitato di leggere due o tre libri di eforo, ed esasperava chiunque sottotiro, mandando a rotoli ogni serata. Sempre lo stesso racconto della battaglia di Leutra, eccetera eccetera, apposta gli avevamo affibbiato il nomignolo di Epaminonda. Ciò nonostante, questo è il minore dei mali, e la chiacchiera va deviata in questa direzione. Se il vaniloquio rifluisce in una dimensione letteraria, risulterà più gradevole. Bisogna che costoro si abituino tanto a scrivere quanto a parlare per conto proprio. Il filosofo stoico antipatro, a quanto pare, non voleva né poteva sostenere un faccia a faccia con Carneade, che tuonava parole fragorose contro la stoa, e allora scrisse fino a riempire libri di confutazioni contro di lui, conquistandosi così il soprannome di Sbraita Carte. Forse, proprio questi strepiti che lo allontanano dalla gente, quest'illusoria schermaglia da scranno, potrebbe restituirci giorno dopo giorno un chiacchierone meno pesante per chi gli sta intorno, come quei cani che si sfogano con pietre e bastoni, e sono meno rabbiosi con gli esseri umani. Per costoro, inoltre, è molto salutare accompagnarsi sempre a gente più autorevole e più anziana, perché il loro parere li porterà a farsi scrupolo, e acquisiranno di conseguenza l'abitudine di tacere. A queste abitudini bisogna sempre combinare e congiungere quell'attenzione di cui abbiamo parlato prima, e la valutazione, ogni volta che stiamo per fiatare, e le parole ci affiorino sulle labbra. Perché questa parola mi pressa e induce a parlare? A che pro la lingua si dimena? Se parlo, che ne deriva di buono? Che di cattivo attacere? La parola non è una zavorra opprimente di cui sbarazzarsi, perché essa, una volta pronunciata, lascia il segno. L'essere umano, anzi, ricorre alla parola a vantaggio proprio o dell'ascoltatore, o ancora, in uno scambio vicendevole e gradito, egli ne insaporisce come col sale il tempo e le attività della sua vita. Ma quando la parola non è utile a chi la pronuncia, né è indispensabile a chi la lode, quando non le si accompagnano, né piacere, né eleganza, a che pro dirla? Parlare in vano e senza costrutto non è meno grave che agire alla stessa maniera. Infine, accanto a tutte queste riflessioni, va tenuto sempre a mente quel monito di Simonide, il quale rimpianse spesso di aver parlato, ma mai di aver taciuto, e bisogna confidare nella disciplina, che di tutto è più forte e su tutto alla meglio, perché l'uomo, se si concentra, può reprimere tosse e singhiozzo, ma trattenergli gli costa sforzo e fastidio, mentre coltivare il silenzio ce lo ricorda Ippocrate, oltre alla sete, allevia anche dolori e sofferenze. Grazie per la visione!